Incredibile ma vero, sono passati 20 anni dall'annuncio della prima Xbox al CES 2001. Per commemorare l'evento, Bloomberg ha recentemente pubblicato un grosso speciale dedicato alla console di Microsoft. Ma tra le interviste e i fatti raccolti ce n'è uno a dir poco particolare, che riguarda Nintendo. Nello speciale sono molte le informazioni notevoli, comprese le motivazioni che hanno portato alla nascita della prima Xbox, all'apparenza molto meno legate all'elemento puramente economico di quanto si possa credere. Il passaggio più spassoso, tuttavia, riguarda con ogni probabilità i tentativi di acquisizione di Microsoft, che intenta ad assicurarsi giochi e accordi esclusivi ai tempi, aveva considerato ogni possibilità. Pensate, pare che in quel periodo abbia tentato di acquisire Square, Midway ed Electronic Arts, senza però riuscire in nessuno di questi casi. È con Nintendo però che le cose si sono fatte Hillary. Durante un incontro organizzato ai tempi da Steve Ballmer per valutare la possibilità di acquistare la casa nipponica, sembra infatti che Nintendo abbia letteralmente riso in faccia ai rappresentanti di Microsoft per un'ora intera dopo l'offerta, senza mai fermarsi. Insomma, abbastanza cristallino, come Nintendo già ai tempi, nonostante alti e bassi fosse più che consapevole delle sue forze e considerasse a dir poco assurda la possibilità di essere acquistata da una qualunque altra azienda. Non che sia ad ogni modo finita male, dato che gli accordi ottenuti all'epoca, specialmente quello con Bungie, hanno poi portato allo storico che ben conosciamo. Curioso comunque come, dopo questo genere di umiliazione, i rapporti tra le due case non si siano fatti straordinariamente freddi, con tanto di collaborazioni dirette negli ultimi anni. E voi? Pensateci sia mai stata realmente la possibilità di uno sposalizio a Nintendo Microsoft o la ritenete da sempre una eventualità assurda? Al solito, fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale di Multiplayer.it per tutte le prossime news. Alla prossima!